Un vero e proprio tsunami politico a Niscemi. La bocciatura del conto consuntivo 2015 da parte di sette consiglieri ha di fatto decretato il terremoto nella sede civica. Tutti a casa i 20 componenti del Consiglio Comunale. I consiglieri che hanno detto no al rendiconto finanziario sono Francesco Alesci, Gianluca Cutrona, Giacomo Gagliano, Giuseppe Manduca, Salvo Lupo e Giuseppe Rizzo. Tutti consiglieri d'opposizione. Il conto consuntivo adesso dovrà essere approvato da un commissario ad acta nominato dalla Regione. Sono state rilevate numerose criticità, spiegano i sette consiglieri. Ecco perché lo abbiamo bocciato. Le modifiche al servizio di gestione dei rifiuti sono state riviste con due delibere datate 18 agosto 2014 e 14 gennaio 2015. Con quest'ultima sottolineano che produce effetti retroattivi, si rileva un comportamento contabilmente non corretto o illegittimo. Il Consiglio Comunale, sottolineano ancora, dovrà inoltrare tutti gli atti al Prefetto e al Ministero degli Interni per far sì che venga inviata la Commissione di Accesso per la Verifica della Legittimità degli Atti Deliberativi della Giunta Municipale. Quest'amministrazione comunale, rimarcano, sta avviando il nostro ente ad un default finanziario con anticipi di cassa di 3 milioni e mezzo e un milione e mezzo la copertura dal Governo per il pagamento dei debiti verso le imprese per un totale complessivo di 5 milioni che dovrà recuperare per il bilancio previsionare 2017. Sempre i sette consiglieri evidenziano che oltre al danno c'è la beffa, una gestione politica amministrativa che non ha prodotto né crescita né sviluppo, ma solo debiti su debiti. L'importante però aggiungono che le feste siano sempre presenti. Sulla vicenda è intervenuto anche il PD di Niscemi, dopo anni in cui ogni azione del Consiglio Comunale è stata disattesa dopo i mancati depositi delle relazioni annuali, dei bilanci approvati a Capodanno e della evidente situazione comatosa che vive la città, si è consumata l'ultima perla di questa amministrazione comunale che rimane alla storia come la più fallimentare di sempre. Il PD, doveva analizzato la relazione del Collegio delle Visori, evidenzia che gli atti relativi ai famosi premi alla ditta dei rifiuti sono contabilmente non corretti e che l'amministrazione comunale ha fatto pagare 170 euro al giorno di interessi ai cittadini nicemesi perché ricorre sempre ai prestiti delle banche invece di prodigarsi nello stanare gli evasori e tutelare così i cittadini virtuosi che pagano. Tutto questo, dicono il Presidente Francesco Di Dio, il segretario Enzo Salvo e il capogruppo consigliare Gianluca Cutrona ci hanno indotto a dire basta, andiamo a casa. Non riteniamo più tollerare questa gestione scellerata ed una maggioranza che non c'è e non esiste e che non è in grado di risolvere neanche il più piccolo dei problemi. Niscemi e nicemesi meritano di più.